Il primo giorno a Metzir, un po' confuso per i mille progetti, le mille iniziative che si fanno, ma sicuramente positivo, per le attenzioni che ho ricevuto da tutti e gli aiuti sin dal primo giorno nel cambiare azienda, entrare in un'azienda nuova, ma che sicuramente sin dal primo giorno di metti al centro, al centro di tutto. Mi ricordo del primo giorno a Metzir, dove conoscevano tutti i miei compagni e tutti i departamenti e lo che mi piacevole è la coesione che aveva tra tutti i departamenti e le chanze di portare un buon lavoro. E mi ricordo molto bene il primo giorno a Metzir. È stato bello, perché ho lavorato in un'azienda in un'azienda, in un'azienda, in un'azienda, senza occhiei, e proprio sono arrivata da questi bellissimi lucii, Torre Glories, con bellissimi visi, e tutto il nostro lucio è molto bello. Sono molto bellissimi collaboratori e anche i professori. Lo che mi ha attraído al campo dell'investigazione è poter apportare in il mondo dell'ocensi di cliniche e poter conoscere persone che anche vogliono dare un poco più a con un'azienda, con un'azienda, con un'azienda, con un'azienda. È sempre stata una persona molto empatica, quindi uno degli obiettivi nella vita, diciamo, che ti prefigli da quando sei piccola, aiutare il prossimo e in questo caso aiutare i pazienti. Per cui mi sono dedicata da sempre alla ricerca biomédica e adesso con un foco più alla clinica, grazie a Metzir. Tutti, attraverso che sia stato un po' diondacka e che sia non so strano di condimento di condivisione alla città che ci sono internazziati o passaggi, ogni tanto ormai ci sono parlato di condivisioni sestričky, che sono di loro, e ovviamente non sono alcune persone. Sinceramente non, perché da sempre il tipo di educazione che mi è stato dato era di contare abbastanza sulle mie forze e di essere la mia propria motivazione. Ma se dovessi trovare un esempio di donna in scienza, direi Rita Levi Montalcini. Io credo che qualsiasi mujer luchadora per ottenere i obiettivi e volere aportare al mondo dell'investigazione è totalmente válida e admirabile nel role, tanto come mujer, di aportare e soprattutto nel campo scientifico. Sinceramente non mi sono mai sentita discriminata per essere donna, ma devo dire che è un plus lavorare in una compagnia del genere, in cui le donne non solo sono riconosciute, ma soprattutto ricompensate per il loro lavoro. Ed è inspirato, ispira avere delle donne ad alti carichi, come la SIO o le dirigenti di differenti dipartimenti che ci guidano in questa visione contro il cancro. Non solo è importante, ma è molto inspirato, sapere che molte donne che stiamo qui possiamo lavorare, conciliare e avere una qualità di lavoro impeccabile. E ovviamente non è molto importante, ma è molto piacere, ma è molto piacere, ovviamente, essere davvero piacere con tantissime e bellissime. È molto piacere lavorare con noi. Io le diria a tutte queste persone che vogliono entrare nel campo di l'investigazione che realmente tenere il valore di entrare in questo campo, che è molto bello, perché c'è molto che investigare. e che, specialmente le donne, che realmente uno apprende, va escalando e che realmente può apportare alla società un gran beneficio ai pazienti con il cancro. Grazie a tutti i nostri amici, a tutti i nostri amici, a tutti i nostri amici, a tutti i nostri amici. Un messaggio per una mea più giovane sarebbe sicuramente di capire subito cosa è quello che ti piace e di andare diretta al punto. E per una qualsiasi giovane donna in cerca di un posto nel mondo della scienza, di sgomitare un po', che c'è posto per tutti. E molta forza di volontà, perché, diciamo, non c'è cura ad oggi e più siamo in questa lotta prima la vinciamo. Grazie a tutti i nostri amici. Buona festa della donna! Siebola, Hoppe Women's Day Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici, attuali problematiche. So, a mille di monedaglio e fiammi qui, supliggio i di hellola come aiutati,